chi взbbe? 400 ma vuoi lui? picchi chi mora bonica ma non mi ero av regulato picchi è il tuo tempo è il tuo tempo una volta c'è la porta aperta e il ghetto in sotto qui si trovi qui BAM no, Piki Piki non vuoi c'è Piki no, Alessia Gabby, no go, go, go